Ciao ragazzi! Oggi faremo l'unboxing delle LOL Biggie Pets! E oltre a questo criceto abbiamo due o tre pezze e 15 sorprese, compresi tutti questi oggetti alla moda e forse anche del misterioso cibo! A proposito, questa è la serie iSpy! Questo significa che una volta che abbiamo trovato gli occhiali, potremo vedere molto altro! Ma sbrighiamoci e apriamola! Su dai, forza! Cerco di stare attenta! Rinunciaci scatola, non puoi vincere! Dai! Evviva! Oh che cosa c'è dentro? E sorpresa numero uno! Insieme alla sorpresa numero due! Ed eccoci qui! Tre e quattro! Wow! Diamo un'occhiata più da vicino a ciascuno di loro! Perché non ci liberiamo di tutta questa plastica? Via plastica via! Ma sembra che qualcosa non abbia funzionato! Via plastica forza! Ok, così va meglio! Inizieremo con questi! E diamo un'occhiata più da vicino ai nostri occhiali! Sono proprio alla moda! Con una catenina in cima! Veramente fighi! Diamo un'occhiata alla scatola! Qui abbiamo un criceto! E qui un gattino! E poi c'è Dolmashan! Tac Tac! Neon Kitty! E il nostro McCammy! Sue, perché hai bisogno della magia se hai me? Li ho già aperti tutti! Ehi ragazzi! Grazie Sammy! Andiamo avanti! E questo cos'è? Penso che sia un catalogo, sì! Qui possiamo vedere che tipo di cibo possono avere i nostri pet! E che tipo di pets potremo avere soprattutto! Popular, Rare, On My Way, Elegant e Ultra Rare! Ragazzi, voi avete delle Biggy Pets? Commentate e diteci chi avete! Nella parte posteriore c'è un indovinello! Potremo provare a risolverlo! Adesso dobbiamo vedere le istruzioni! C'è così tanto ragazzi! Vediamo l'altra parte! Allora, dovremmo aprire la palla, tirare fuori il nostro criceto, metterle gli occhiali alla moda e prendere tutte le sorprese che nasconde dentro di lei! La si può immergere nell'acqua fredda e calda o farle indossare i suoi accessori glamour! A proposito, anche voi potete indossare questi accessori! Questo qui può anche essere usato come maniglia, ma lo vedremo più tardi! O il nostro criceto può anche essere usato come salvadanaio o zaino! E possiamo utilizzare questa palla anche come borsetta! Ok, seguiamo le istruzioni! Apriamo la nostra palla! Ragazzi, guardate quanto è bella! È decorata con dei cinturini ed è fantastica! Sembrano reali! Combiniamo queste frecce per aprirla! Ta-da! Ma chi è questo carino? Lascia che ti dia un'occhiata! Vieni qui, bellissimo! Le sue orecchie sono così carine! E il suo faccino? Vedi, sta tirando fuori la lingua! Le scarpe da ginnastica sono così alla moda! C'è un motivo a zampa sulle suole! Ma guardate che belle trecce bionde che ha! E questo è lo slot per renderlo un salvadanaio, vedi? Ecco la tracolla che ci aiuterà a trasformarlo in uno zaino! Però attenzione ragazzi con gli oggetti appuntiti, mi raccomando! Qui abbiamo un altro messaggio, vediamo! Squeak squeak! I criceti emettono questo suono, che bellino! Dall'altro lato dice I love LOL! Mettiamoli da parte ora! Assembliamo lo zaino? Dovremmo avvolgere il cinturino qui e fissarlo qui! Fatto! Che adorabile zaino che abbiamo realizzato! E adesso è giunto il momento di vestire il criceto! Accessorio numero uno! Ah, questa catena d'oro ti sta benissimo! È tempo degli occhiali! Sì! Ricordate questa gomma nera? Ci aiuterà a fissare gli occhiali sul nostro criceto! Fatto! È così bello! Mi ero quasi dimenticata di questo accessorio! Può essere indossato come un girocollo o come cinturino sulla nostra borsetta! Così! Fatto! Ah, la nostra borsetta è super trendy! Vediamo Ami adesso! Ha ancora molte sorprese in servo per noi! Diamo un'occhiata dentro e vediamo che cosa c'è! Allora... in tutto sono nove baggy! Sue, potresti prestarmi gli occhiali del criceto? Certo, Sammy! Grazie, Sue! Te li restituirò! Puoi averli ma non per molto! Conoscerò il segreto! Aprimi! LOL Surprise! Cosa c'è dentro? Bene! Va bene! Vediamo... Ok, ok, sì, sì... Nah, non capisco! Mi chiedo se ci sia rimasto qualcosa dentro... Oh, sì, guarda, è un cestino! Sembra la faccia di un gattino! E queste orecchie sono così carine, oh... Altri tesori? Sì, un cestino bianco della stessa forma! Che belle orecchie! Ancora? Ma guardate, è un'altra scatola! Gattini gratuiti! Oh, che bello! Cuccioli di cane gratuiti! Qui dice maneggiare con cura! E dice fragile! Oh! È tempo di... Eh... Avete visto che è successo qui? Oh, immagino che Sammy non sia riuscito a risolvere l'indovinello! Ok, apriamo le baggy adesso! Ecco la prima! Che ci sarà dentro? Prendo con cura... Oh, ma questi sono occhiali da sole! Affascinanti! Mi chiedo per quale animale siano! È un altro... Dai, baggy, apriti! Sono così emozionata! Oh, wow! È una paletta! Vedete, c'è un muse e una carota! Deve essere un coniglio! Andiamo avanti! Ok, chi ci sarà qui dentro? Un'altra paletta! Questa volta c'è un muse e una coda strisce! Deve essere un gattino! Perché non proviamo a fare altre magie e... Ups, qualcosa è andato storto! Ah, di nuovo! Mi so che mi devo ancora scaldare un po'? Oh, forse la magia non è eterna! Vediamo questi! Abbiamo un altro paio di occhiali e alcuni vestiti! Vestiti per un cagnolino, forse? E questa qui è una collana decorata con un fiocco e una perla! Di chi sarà, mi chiedo? Che ci crediate o no, ci sono altri tre baggy! E sono grandi! Apro la prima! Ups! Proviamo dall'altra parte! Non essere timido! Oh, è un osso! Ed è dorato, ma è davvero sorprendente! E possiamo anche trasformarlo in un charm se gli mettiamo questa chiusura! Diamo un'occhiata dentro? Che bello! Ma che cos'è? È un enigma! Allora, la domanda è... Quando è che i criceti hanno paura della pioggia? E la risposta è... Quando piove a catinelle! Ed ecco il prossimo! Ti ho preso! Eccolo! Interessante! È il cuore di una veggente! Ha anche una chiusura, quindi che dovrei fare stasera! Accidenti! Dice... Mangia! Beh, ok! Che ci sarà nell'ultima veggie! Mi sbrigo! Wow! Questa è una chiusura! E poi... È un portafortuna! Sammy! Sammy! Vieni a giocare con me! Dai! Ok! Allora giocherò da sola! Uno, due, tre! Penso che la mano sinistra abbia vinto! È tempo dei pezzi! Per prima cosa aprirò il cestino nero! Oh, caspita ragazzi! Fantastico, vero? All'interno il coperchio del cestino sembra un cuscino! E qualcuno l'ha già graffiato! Vediamo chi è con l'aiuto della paletta! Scaviamo... Ups! C'è qualcuno! Fammi tirare fuori il giocattolo! Chi sei, è? Ah? È un altro criceto! Ha un muso così carino e una codina rosa! Sono sicura che ci sia qualcosa sul fondo di questo cestino! E là! Ragazzi, ci sono due cuscini e un polino! Incredibile! Rimetto dentro la sabbia! Ah, è così morbida! Adoro la sabbia cinetica! E adesso il cestino bianco! Apriamolo! La sabbia è tipo menta! Questa volta userò la paletta rosa! Scaviamo e scaviamo ancora! Oh, posso già vedere qualcuno? Rendiamo tutto più semplice e veloce! Si vede qualche tesoro? Ma... È un gattino! È adorabile! I suoi occhi sono verdi! E i suoi capelli sono intrecciati proprio come quelli di Emmy! Ma mi chiedo chi ci sarà? Un cagnolino? O un gattino? Vediamo, non vedo l'ora! Bisogna ancora scavare! Meno male che c'è la paletta! E uno, due! Vieni qui piccolo, giochiamo! Proverò a tirarlo fuori! Oh, wow! Non è un gattino e nemmeno un cagnolino! È un criceto con un ciuccio in bocca e dei cinturini rosa! E guarda, è pezzato come un dalmata! Proprio carino! E ora di cambiarli di colore, concordi? Tuffati piccolo! E wow, è un criceto rosa! E la sua schiena? Ci sono delle ali! Quindi sa volare alto nel cielo! Di nuovo nell'acqua fredda! E adesso è di nuovo nera! Il tuo turno, gattino! Forza! Ups! Non penso che sia cambiato qualcosa! Immergiamolo in acqua fredda! Sì, ci siamo! Qualcosa succede! Ha un top con il numero uno! E i capelli sono diventati neri! No, è davvero sorprendente! In acqua calda invece torna come prima! Vedi? E adesso faremo una sfilata di moda! Sì, ci siamo! Quindi oggi abbiamo trovato McCammy e Defancy, McMiao e Rare! E tutti e due vengono dalla collezione Glee Club! Poi c'è Spicy Yum da Opposite Club e Dolemmy che è Rare da Glam Club! Beh, non è male, giusto? A voi è piaciuta questa sessione di unboxing? Se è così mettete un mi piace a questo video e condividetelo con gli amici! Alla prossima!